di alessandro manzoni i promessi sposi voce di lorenzo pieri capitolo diciannovesimo parte seconda un grande studio una grand'arte di gran parole metteva quel signore nel maneggio d'un affare ma produceva poi anche effetti corrispondenti infatti col colloquio che abbia riferito riuscì a fare andare fra cristoforo a piedi da pescarenico a rimini che è una bella passeggiata una sera arriva a pescarenico un cappuccino di milano con un plico per il padre guardiano c'è dentro l'obbedienza per fra cristoforo di portarsi a rimini dove predicherà la quaresima la lettera al guardiano porta all'istruzione di insinuare al detto frate che deponga ogni pensiero d'affari che potesse avere avviati nel paese da cui deve partire e che non vi mantenga corrispondenze il frate l'atore deve essere il compagno di viaggio il guardiano non dice nulla la sera la mattina fa chiamar fra cristoforo gli fa vedere l'obbedienza gli dice che vada a prender la sporta il bastone il sudario e la cintura e con quel padre compagno che gli presenta si metta poi subito in viaggio se fu un colpo per il nostro frate lo lascio pensare a voi renzo lucia agnese gli vennero subito in mente e esclamò per dir così dentro di sé oddio cosa faranno quei meschini quando io non sarò più qui ma alzò gli occhi al cielo e s'accusò d'aver mancato di fiducia d'essersi creduto necessario a qualche cosa mise le mani in croce sul petto in segno d'ubbedienza e chinò la testa davanti al padre guardiano il quale lo tirò poi in disparte e gli diede quell'altro avviso con parole di consiglio e con significazione di precetto fra cristoforo andò alla sua cella prese la sporta vi ripose il breviario il suo quaresimale e il pane del perdono s'allacciò la tonaca con la sua cintura di pelle si licenziò da suoi confratelli che si trovavano in convento andò da ultimo a prender la benedizione del guardiano e col compagno prese la strada che gli era stata prescritta abbiamo detto che don rodrigo intestato più che mai di venire a fine della sua bella impresa s'era risoluto di cercare il soccorso d'un terribile uomo di costui non possiamo dare né il nome né il cognome né un titolo e nemmeno una congettura sopra nulla di tutto ciò cosa tanto più strana che del personaggio troviamo memoria in più d'un libro libri stampati dico di quel tempo che il personaggio sia quel medesimo l'identità dei fatti non lascia luogo a dubitarne ma per tutto un grande studio a scansarne il nome quasi avesse dovuto bruciare la penna la mano dello scrittore francesco rivola nella vita del cardinal federico borromeo dovendo parlare di quell'uomo lo chiama un signore altrettanto potente per ricchezze quanto nobile per nascita e fermi lì giuseppe ripamonti che nel quinto libro della quinta decade della sua storia patria ne fa più distesa menzione lo nomina uno costui colui quest'uomo quel personaggio riferirò dice nel suo bel latino da cui traduciamo come ci riesce il caso d'un tale che essendo deprimi tra i grandi della città aveva stabilita la sua dimora in una campagna situata sul confine e lì assicurandosi a forza di delitti teneva per niente i giudizi i giudici ogni magistratura la sovranità menava una vita affatto indipendente ricettatore di forusciti foruscito un tempo anche lui poi tornato come se niente fosse da questo scrittore prenderemo qualche altro passo che ci venga in taglio per confermare e per dilucidare il racconto del nostro anonimo col quale tiriamo avanti fare ciò che era vietato dalle leggi o impedito da una forza a qualunque essere arbitro padrone negli affari altrui senz'altro interesse che il gusto di comandare esser temuto da tutti aver la mano da coloro che erano soliti averla dagli altri tali erano state in ogni tempo le passioni principali di costui fino dall'adolescenza allo spettacolo e al rumore di tante prepotenze di tante gare alla vista di tanti tiranni provava un misto sentimento di sdegno e di invidia impaziente giovine e vivendo in città non tralasciava occasione anzi andava in cerca da vera che dire co più famosi di quella professione da traversarli per provarsi con loro e farli stare a dovere o tirarli a cercare la sua amicizia superiore di ricchezze e di seguito alla più parte e forse a tutti d'ardire e di costanza ne ridusse molti a ritirarsi da ogni rivalità molti ne conciò male molti nebbe amici non già amici del pari ma come soltanto potevano piacere a lui amici subordinati che si riconoscessero suoi inferiori che gli stessero alla sinistra nel fatto però veniva anche lui a essere il faccendiere lo strumento di tutti coloro essi non mancavano di richiedere nel loro impegni l'opera ad un tanto ausiliario per lui tirarsene indietro sarebbe stato decadere dalla sua riputazione mancare al suo assunto di maniera che per conto suo e per conto d'altri tante ne fece che non bastando né il nome né il parentado né gli amici né la sua audacia a sostenerlo contro i bandi pubblici e contro tante animosità potenti dovette dar luogo e uscir dallo stato credo che a questa circostanza si riferisca a un tratto notabile raccontato dal ripamonti una volta che costui ebbe a sgomberare il paese la segretezza che usò il rispetto la timidezza furon tali attraversò la città a cavallo con un seguito di cani a suon di tromba e passando davanti al palazzo di corte lasciò alla guardia un'imbasciata di impertinenze per il governatore nell'assenza non ruppe le pratiche né tralasciò le corrispondenze con quei suoi tali amici i quali rimasero uniti con lui per tradurre letteralmente dal ripamonti in lega occulta di consigli atroci e di cose funeste pare anzi che allora contra esse con più alte persone certe nuove terribili pratiche delle quali lo storico summentovato parla con una brevità misteriosa anche alcuni principi esteri dice si valsero più volte dell'opera sua per qualche importante omicidio e spesso gli ebbero a mandar da lontano rinforzi di gente che servisse sotto i suoi ordini finalmente non si sa dopo quanto tempo o fosse elevato il bando per qualche potente intercessione o l'audacia di quell'uomo gli tenesse luogo di immunità si risolvette di tornare a casa e vi tornò di fatti non però in milano ma in un castello confinante col territorio bergamasco che allora era come ognun sa stato veneto quella casa cito ancora il ripamonti era come un'officina di mandati sanguinosi servitori la cui testa era messa a taglia e che avevan per mestiere di troncar teste né cuoco né sguattero dispensati dall'omicidio le mani dei ragazzi insanguinate oltre questa bella famiglia domestica naveva come afferma lo stesso storico un'altra di soggetti simili dispersi e posti come quartiere in vari luoghi dei due stati sul lembo dei quali viveva e pronti sempre a suoi ordini tutti i tiranni per un bel tratto di paese all'intorno avevano dovuto chi in un'occasione e chi in un'altra scegliere tra l'amicizia e l'inimicizia di quel tiranno straordinario ma ai primi che avevano voluto provare di resistergli la gli era andata così male che nessuno si sentiva più di mettersi a quella prova e neppur col badare a fatti suoi con lo stare a sé uno non poteva rimanere indipendente da lui capitava un suo messo a intimargli che abbandonasse la tale impresa che cessasse di molestare il tal debitore o cose simili bisognava rispondere sì o no quando una parte con un omaggio vassallesco era andata a rimettere in lui un affare qualunque l'altra parte si trovava a quella dura scelta o di stare alla sua sentenza o di dichiararsi suo nemico il che equivaleva a essere come si diceva altre volte tisico in terzo grado molti avendo il torto ricorrevano a lui per aver ragione in effetto molti anche avendo ragione per preoccupare un così gran patrocinio e chiuderne l'abito all'avversario gli uni e gli altri divenivano più specialmente suoi dipendenti accadde qualche volta che un debole oppresso vessato da un prepotente si rivolse a lui e lui prendendo le parti del debole forzò il prepotente a finirla a riparare il malfatto e a chiedere scusa o se stava duro gli mosse tal guerra da costringerlo a sfrattar dai luoghi che aveva tiranneggiati o gli fece anche pagare un più pronto e più terribile fio e in quei casi quel nome tanto temuto e abborrito era stato benedetto un momento perché non dirò quella giustizia ma quel rimedio quel compenso qualunque non si sarebbe potuto in quei tempi aspettarlo da nessun'altra forza né privata né pubblica più spesso anzi per l'ordinario la sua era stata ed era ministra di voleri iniqui di soddisfazioni atroci di capricci superbi ma gli usi così diversi di quella forza producevano sempre l'effetto medesimo di imprimere negli animi una grande idea di quanto egli potesse volere e eseguire in onta dell'equità e dell'iniquità quelle due cose che metton tanti ostacoli alla volontà degli uomini e li fanno così spesso tornare indietro la fama di tiranni ordinari rimaneva per lo più ristretta in quel piccolo tratto di paese dove erano i più ricchi e i più forti ogni distretto aveva i suoi e si rassomigliavano tanto che non c'era ragione che la gente s'occupasse di quelli che non aveva ridosso ma la fama di questo nostro era già da gran tempo diffusa in ogni parte del milanese per tutto la sua vita era un soggetto di racconti popolari e il suo nome significava qualcosa di irresistibile di strano di favoloso il sospetto che per tutto sapeva dei suoi collegati e dei suoi sicari contribuiva anch'esso a tener viva per tutto la memoria di lui non erano più che sospetti giacché chi avrebbe confessata apertamente una tale dipendenza ma ogni tiranno poteva essere un suo collegato ogni malandrino uno dei suoi e l'incertezza stessa rendeva più vasta l'opinione e più cupo il terrore della cosa e ogni volta che in qualche parte si vedessero comparire figure di bravi sconosciute e più brutte dell'ordinario a ogni fatto enorme di cui non si sapesse alla prima indicare o indovinare l'autore si proferiva si mormorava il nome di colui che noi grazie a quella benedetta per non dir altro circospezione dei nostri autori saremo costretti a chiamare l'innominato dal castellaccio di costui al palazzotto di don rodrigo non c'era più di sette miglia e quest'ultimo appena divenuto padrone e tiranno aveva dovuto vedere che a così poca distanza da un tal personaggio non era possibile far quel mestiere senza venire alle prese o andar d'accordo con lui gli sera perciò offerto e gli era divenuto amico al modo di tutti gli altri si intende gli aveva reso più d'un servizio il manoscritto non dice di più e ne aveva riportate ogni volta promesse di contraccambio e d'aiuto in qualunque occasione metteva però molta cura a nascondere una tale amicizia o almeno a non lasciare scorgere quanto stretta e di che natura fosse don rodrigo voleva bensì fare il tiranno ma non il tiranno salvatico la professione era per lui un mezzo non uno scopo voleva dimorar liberamente in città godere i comodi gli spassi gli onori della vita civile e perciò bisognava che usasse certi riguardi tenesse di conto parenti coltivasse l'amicizia di persone alte avesse una mano sulle bilance della giustizia per farle a un bisogno traboccare dalla sua parte o per farle sparire o per darle anche in qualche occasione sulla testa di qualche d'uno che in quel modo si potesse servir più facilmente che con l'armi della violenza privata ora l'intrinsichezza diciamo meglio una lega con un uomo di quella sorte con un aperto nemico della forza pubblica non gli avrebbe certamente fatto buon gioco a ciò specialmente presso il conte zio però quel tanto d'una tale amicizia che non era possibile di nascondere poteva passare per una relazione indispensabile con un uomo la cui inimicizia era troppo pericolosa e così ricevere scusa dalla necessità giacché chi ha l'assunto di provvedere e non ha la volontà o non ne trova il verso alla lunga acconsente che altri provveda da sé fino a un certo segno a casi suoi e se non acconsente espressamente chiude un occhio una mattina don rodrigo uscì a cavallo in treno da caccia con una piccola scorta di bravi a piedi il griso alla staffa e quattro altri in coda e s'avviò al castello dell'innominato